Eccoci, eccoci, ben ritrovati, ben ritrovati Club Napoli All News, gruppo Topo MD a Mugnano, siamo qui finalmente. Dopo qualche settimana di assenza siamo tornati. Siamo tornati, siamo tornati, siamo live dopo questa bella giornata di ieri sulla MSC Crociere dove con i Club Napoli One abbiamo seguito tutta questa iniziativa che speriamo di seguire con attenzione, poi ad agosto vedremo se ci sarà data possibilità di essere là proprio, vediamo, ci stiamo provando, poi vi faremo sapere. Ci aspetta una bella estate. Sì, sì, intanto stavamo facendo, mentre eravamo quasi pronti nella sigla, stavamo facendo un po' di conteggi sulle ripartenze, sulle date, poi vi informeremo su tutto. Comunque noi rimarremo live una settimana intera dopo l'ultima partita di campionato che è il 22 maggio e poi ricominceremo a luglio, sapete il mese di giugno saremo fermi come tutti gli anni per riorganizzare la macchina organizzativa dei ritiri che ci saranno a Di Maro e a Cassel di Sangro, noi li seguiremo con attenzione. Già vi posso dire che insomma il 4 di luglio ricominceremo la trasmissione regolarmente, il 7 saremo in viaggio verso Di Maro e quindi seguiremo tutto il ritiro a Di Maro e come al solito poi rientro a Napoli e dopo qualche giorno ripartenza per Cassel di Sangro e rimarremo live fino ai primi giorni di agosto dove saremo comunque pronti a vivere anche il ritiro di Cassel di Sangro. Poi agosto praticamente sarà veloce la ripartenza perché quest'anno già si gioca il 14 di agosto insomma perché non c'è tempo. Ci aspetta una lunga pausa a novembre. Eh ma la pausa non la faremo sicuramente faremo comunque le nostre trasmissioni. Sì 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 noi sì dico il campionato si ferma quindi devono iniziare prima, noi no ma il campionato sì. Allora sia oggi che in tutta questa settimana ve lo dico la domanda sarà unica, sarà in siete soddisfatti della qualificazione Champions? Questa è la domanda che ci tormenterà per tutta la settimana perché ormai insomma il Napoli è qualificato in Champions, noi ci siamo lasciati nel post partita di sabato con un Napoli che aveva vinto 6 a 1 facile facile contro il Sassuolo in una partita che voglio dire in alcuni casi è stata una mezza stilettata al cuore perché insomma ogni gol che il Napoli segnava sembrava insomma che quella partita facesse acuire i rimpianti per quello che era successo con l'Empoli solo una settimana prima. In tutto questo Milan e Inter hanno vinto le loro partite. il Milan con la vittoria con la Fiorentina che non ha giocato ma io lo sapevo già come contro il Napoli ma insomma ripeto è inutile versare lacrime da coccodrillo però una cosa la devo dire prima di poi entrare nel vivo della puntata intanto fatemi salutare Raffaele D'Antonio che come tutti i martedì è qua con me all'MD Gruppo Topo. Grazie Francesco buonasera a te e buonasera a tutti i nostri spettatori. Poi dirai anche tu la tua noi più tardi apriamo le linee non vi preoccupate oggi è giornata dove lo sapete diamo spazio ai tifosi domani invece avremo ancora qualche ospite qualche situazione con Francesco Rabona fatemi salutare il duo Iezzo Daniello che però purtroppo ha perso la prima partita e ragazzi insomma erano arrivati da due giorni hanno provato a sistemare un po' le cose hanno perso 1-0 contro la prima di questo girone che stanno facendo che è una sorta di girone dei playoff l'importante è non arrivare ultimi mi diceva Francesco Rabona domani ne parliamo meglio e intanto fatemi salutare Renato qua e da MD nella nostra postazione che poi è passata dal freddo gelido al caldo al sole che oggi siamo riparati dal sole perché ce l'avevamo quasi a picco in testa però adesso è un po' girato il sole però la temperatura è gradevole e Marco invece regia Giuliano un paio di cose le voglio dire ancora una volta io ho fatto un post subito dopo le partite dell'Empoli che ha perso e della Fiorentina che ha perso vi posso dire insomma io l'ho già detto molti tifosi mi hanno scritto no è inutile che te la prendi ancora con le altre che facciamo il solito vittimismo ragazzi io mi pare di averlo detto l'averlo detto sabato prima e anche soprattutto dopo la partita perché sabato dopo la partita io l'ho detto è stata una vittoria che ha fatto male dove il rammarico è salito alle stelle schizzato su in alto perché aver visto quei sei gol del Napoli quelle accelerazioni è vero anche il Sassuolo è venuto in vacanza perché ogni tanto parliamo sempre dello scansuolo no però lo scansuolo insomma anche con noi devo dire la verità ha giocato con le ciabatte le ciabatte da mare lo abbiamo visto in alcuni calciatori in altri insomma c'è stato poco pochissimo credo che in difesa l'unico che ha provato a giocarsela è stato Ferrari in attacco non mi fate essere cattivi ma ho visto praticamente alcuni giocatori che a me non mi convincono né Berardi né Scamacca poi mi sbaglierò io lo sapete sono pronto anche come dire a ritornare tranquillamente sui miei passi detto questo ho specificato che il Napoli è lui che ha buttato al vento questo scudetto perdendo in maniera oscena con la Fiorentina perdendo in maniera ancora più oscena con l'Empoli e prendendo un pareggio che è veramente brutto con la Roma Roma anche lei che insomma si è vero forse si giocherà la finale di Conference League ma poi ha dato veramente brutte situazioni anche a livello di campionato quindi questo lo abbiamo detto non devo ribadirlo però me la posso prendere con squadre che ancora una volta non fanno il loro dovere perché? Perché la Fiorentina ragazzi ha fatto peggio di noi dopo che ha giocato contro di noi cioè la Fiorentina è una squadra che rimane ferma a 56 punti praticamente da quando ha battuto noi e 56 punti anche loro si sono giocati quella che poteva essere il passaggio diretto all'Europa League perché in questo momento la Fiorentina dovrebbe entrarci si è fatta riprendere dall'Atalanta intanto che ieri ha pareggiato con la Salernitana dando ancora la Salernitana ha una chance per ora ha ancora una partita da giocare si giocherà venerdì 5 maggio nel giornata di ieri se non sbaglio è stato ufficializzato forse l'altro ieri questo recupero che ancora è in dubbio ha tre giorni dalla partita praticamente che è sempre quello che è incredibile comunque la Salernitana si gioca la salvezza mentre vedo un po' più difficile che Genoa e Venezia possano recuperare ancora così tanti punti però anche loro sono in battaglia ragazzi grazie 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 eccoci qua ritornati perdonateci non c'era stato il collegamento comunque ritorniamo live stavo dicendo insomma che delle nostre brutte figure ne ho parlato ribadisco che invece C'è qualche squadra avversaria, vedi Fiorentina, vedi Empoli, vedi Roma, mi sembra che avevano giocato contro di noi alla morte e oggi invece ho visto una squadra che secondo me non ha dato quello che doveva dare in tutte le sue forme. Aspettiamo questo finale di campionato con grande passione per vedere chi lo vincerà, però il rammarico è forte ragazzi, poi potremo parlare della società, potremo parlare di De Laurentiis perché non è intervenuto prima, questo lo faremo, ripeto, lo faremo tutta la settimana perché sarà una settimana calda, sarà una settimana dove si sta sentendo tanto di mercato, però il mercato in questo momento è ancora troppo indivenuto, quindi vediamo un attimo che cosa succederà e poi valuteremo anche noi di parlare di mercato perché io ve lo dico, lo ribadisco con forza, io di mercato non vorrei parlare subito, è chiaro che parleremo di mercato, lo dico anche a Raffaele, però sicuramente questo mercato poi inizierà più in là quando il Napoli avrà anche la certezza di certe situazioni perché ci saranno delle situazioni che dovranno divenire, tutta la parte di recessioni, da cui dipende poi il mercato di entrata perché è stato facile trovare il nome di Guarascelia per sostituire Insigni, è già partente, ma lui lo sapevamo che sarebbe andato via, lo sapevamo dal finestra scorsa di mercato, quella di gennaio, gli altri non lo sappiamo, non sappiamo se andrà via Fabiana, se andrà via Osimena, se andrà via un difensore, quindi tutto quello che è indivenire per l'uscita, tu sei soddisfatto, ti faccio la domanda che abbiamo lanciato ai nostri due spettatori, tu sei soddisfatto? la questione è difficile perché si mi hai chiesto, hai fatto questa domanda a inizio anno, tu sei soddisfatto di andare in Champions? non si è te l'ha risposto, certo, assolutamente, e tant'è vero che va sottolineato comunque che il Napoli è riuscito a centrare l'obiettivo della stagione che è quello appunto di tornare in Champions dopo due anni che non c'era riuscita, e nonostante questo però rimane la mare, in bocca, una mare in bocca perché la realtà dei fatti che che ne dicano alcuni tifosi che ci hanno anche criticato è che il Napoli è andato a tanto così dal giocarsi allo scudetto fino all'ultima giornata Raffaele, ma te lo ribadisco ancora, intanto entra il solito uccellino che ci accompagna il martedì Sì, io non sono soddisfatto Ok, è perché è giusto Ma ti faccio un'altra domanda Vai Ma tu ti eri ingolossito o no? Sì, sì, sì Perché il Presidente ha detto che noi non c'eravamo ingolossiti Allora io lo voglio anche dar ragione che in certe situazioni non ti devi sempre ingolossiti Intanto l'uccello è uscito Allora dicevo, noi è vero che non ci dovevamo ingolossire perché il Presidente dice No, siete voi che vi siete ingolossiti Eh ma chi si deve ingolossire? Ma chi si doveva ingolossire invece? Cioè, ma ragazzi, ma guardate Se non ci conosciamo noi Ho sentito, ho sentito, dei giornalisti del Nord Che spesso critichiamo anche noi Che si erano ingolossiti al posto nostro Allora, tu ti eri ingolossito? Rispondi Allora, io mi ero molto ingolossito, assolutamente Sì, lo metto senza remore, non ho problemi a dirlo Una situazione del genere Una congiunzione astrale di squadre avversarie che non sono Che non ammazzano il campionato Come per esempio è successo l'anno scorso con l'Inter Un Napoli che tiene, botta, nonostante l'annata disastrosa Al punto di vista di infortuni Del punto di vista del... c'è stato la Coppa d'Africa a gennaio-febbraio E nonostante tutto, fino a metà aprile Il Napoli era lì, era in lotta Certo che mi sono ingolossito E il fatto che si siano ingolossiti anche i giornalisti del Nord Che dicevi tu è ancora più significativo Molto Perché se tu vai a chiedere a un milanista tra l'Inter e il Napoli Chi preferiva vincere O al contrario, a un interista tra Napoli e Milan Tutti e due avrebbero esposto Napoli Cioè dovendo cedere il passo agli avversari Preferivano aver vincesse il Napoli Piuttosto che l'avversario diretto Milan e l'Inter E quindi tutti quanti praticamente difavano Napoli Sotto il proprio punto di vista Nonostante avrebbero preferito chiaramente Milan o Inter Ma dopo avrebbero preferito il Napoli Perciò c'è stato questo ingolosimento della stampa un po' tutta Non tutta la stampa Sottolineiamo Non dimentichiamo che l'abbiamo detto in puntata Che c'è qualcuno che ci ha un po' remato conto Però La questione è un'altra La questione è che se non ti ingolosisci Quando sei lì fino a metà aprile Quando ti devi ingolosire? Soprattutto quando è dichiarato Che tu non lotti per l'obiettivo Scudetto Ecco E l'ho fatto quest'anno E lo rifarei l'anno prossimo Senza nessun tipo di problema Ho letto un commento Dalla nostra diretta di sabato Sabato pomeriggio Dopo la partita Che io mi sono imborghesito Che noi ci siamo imborghesiti Perché abbiamo fatto il passo più lungo della gamba Ma non è questa la discussione Ma imborghesiti di cosa ragazzi? Perché ancora sanno dire Ma se stavano Nald e Corbelli Ma dai Ma quali Nald e Corbelli? Scusatemi Ma permettetemi di sottolineare una cosa Io ho 31 anni Io non ho visto Napoli vincere niente Oggi sono 8 anni dalla Coppa Italia Purtroppo Di Ciro Esposito E ricordiamo la figura di Ciro Esposito Con grande commozione Quella Coppa Italia Che vincemmo E noi c'eravamo a Roma Con il nostro collega Vincenzo Balzano Che saluto Eravamo lì a seguire Proprio tutto quello che è successo E videmmo una marea di notizie Facemmo una lunga diretta E poi la vincemmo quella Coppa Italia Che non abbiamo mai festeggiato No Chiaramente Pure per quel motivo lì Insomma E poi ti dicevo Io sono di febbraio 91 Il Maradona l'ho incrociato Per un mese e un mese e mezzo Perché poi è andato via Il Napoli da quando sono nato io Ha vinto tre Coppa Italia Se ricordo bene E basta Due Coppa Italia Due Coppa Italia Due Coppa Italia Due Coppa Italia E quindi Di che stiamo parlando? No tre Hai ragione Mazzarri Benitez E Gattuso E Gattuso Che sono Coppe che Uno l'abbiamo avuto a festeggiare Perché come hai ricordato tu Non c'era niente da festeggiare Per il resto La Coppa Italia è bella Solo per chi la vince Perché fondamentalmente Così come organizzata Allora due Solo due Quante Coppa Italia Abbiamo vinto fino adesso? Oddio Mi perdo Vado a recuperare Recuperiamo questa informazione E comunque Poco cambia Ho visto solo quelle E sono Coppe che lasciano il tempo Che trovano Perché tutti i tifosi Mi dicono Vabbè L'abbiamo vinta a posto Ma non è che Non dà soddisfazione quasi a nessuno E quindi non mi dispiacerebbe Arrivare a vincere qualcosa Anche perché Come sappiamo Le Coppe Europee La Champions Che è il nostro obiettivo Sono Coppe che sono Anche un po' proibitive Per quello che è il Napoli Perché non tanto per La squadra E comunque c'è Ma alla fine Ci sono squadre Che arrivano A questo punto della stagione Con tanti soldi investiti E purtroppo In Napoli è difficile Che riesco a competere Quindi scusatemi Se mi sono ingolosito Di potervi vedere Una vittoria Della mia squadra Cioè Non so perché Non dovrei Ingolosirmi In questa situazione Allora Sarei Coppe Italia Allora avevi ragione tu Perché sono 2011 2012 2013 2014 2019 2019 2020 Quella con Gattuso Due supercoppe E credo che ne hai vinta Solo una Tu Quella del 2014 Esatto E basta Perché Scudetti e Coppe Non sono tre Coppe Italia E una supercoppa italiana Quindi scusatemi ancora Grazie scusa Se mi ingolosisco E non voglio Voglio vedere vincere Napoli Esatto Quindi diciamo che Io credo che sia così Allora saluto un po' Di amici Giuseppe Se lo dice Se lo dice Mertensi Direttore è ovvio Che non siamo soddisfatti Lo dice Gianluca Rodolfo Se parte Osimena Arriverà un giocatore Alla Cavana O un altro Petagna Rodolfo Aspettiamo Gianluca Possiamo saperlo Tanto usciamo subito fuori Non mi meraviglio ormai Intanto il Napoli Dovrebbe essere terza fascia Quest'anno Questa non è per niente Una buona notizia Dopo due uscite Da l'Acele Franco dice Ma qual è il grado Di sopportazione Che ancora dobbiamo subire Per tutte le offese Che dobbiamo subire Da ADL E soprattutto voi giornalisti Che dovete difendersi Alzarete la testa Davanti a questo personaggio Ma guarda Franco Mi dispiace Che tu accusi noi Se accusi in generale Però vai a colpire Anche una serie di giornalisti Che le cose Sulla società Con su ADL Su Diciamo Questo tipo di Modo di fare Lo abbiamo sempre detto Anzi Ci siamo anche imbattuti In polemiche Che invece Alcuni tifosi O alcuni altri colleghi Non vogliono fare Noi l'abbiamo fatto In maniera Sempre pulita E sempre molto costruttiva Perché la critica c'è La critica ci deve essere La critica però È costruttiva Deve essere costruttiva Altrimenti non lascia il tempo Che trova E noi facciamo da anni La critica costruttiva Poi Ripeto Ancora una volta Non Non riusciamo a farle Le domande a De Laurentiis Lo dicevamo la settimana scorsa Ci sono sempre i soliti noti Che fanno le interviste A De Laurentiis E quando facciamo Vogliamo fare noi Una domanda Diventa un po' difficile Allora Umberto dice assolutamente no Io non sono soddisfatto Soprattutto di questa società Gerardo Dice si fa il nome Dimitrovic Attaccante del Fulham 43 gol e 9 assist In championship Gerardo Oggi ho letto Nomi ovunque Di tutti i ruoli Di tutti i giocatori Di tutti i campionati Ma Come ho detto prima Senza un mercato In uscita chiaro Individuare Chi potrebbe arrivare È presto che impossibile Bravissimo Poi Allora Il traguardo Come tutti Sappiamo Era riandare in Champions Però il Napoli Secondo me Ha mancato una marea Di occasioni Potevamo pensare in grande Ma purtroppo Si sa Come è andata a finire Speriamo nel prossimo anno Come diciamo sempre Sperare nell'anno successivo C'è bisogno Che la società Migliori In tutti gli aspetti Angelo Bencivenga Dice no Carmine Risi Non ho capito Perché mi scrive giovedì Va beh Allora Buonasera Io sono soddisfatto Se guardo A prima della partenza Il campionato Ma poi Se guardo Come si è perso La cosa fa rabbia Ci sta che puoi perdere Ma non presentandosi In campo Come dei fantasmi Gigi Molfetta Siamo felici E perché no Ma poi potremmo essere Felicissimi E perché il presidente Dice Vince lo Scudetto All'Unione Non entrebbe nulla di nuovo Ma chi vince lo Scudetto Si qualifica Per la Champions E prende il premio Come primo classificato Sì Quindi Lo preoccupa Dopo Lo preoccupa Il dopo Aver vinto Perché dovrebbe allestire Una squadra ancora più forte Non da comprimario Come adesso Fammi interromperti Permettimi di interromperti Questa Cosa che avevi appena letto La non volontà Di ADL Di vincere Perché poi dopo Dovrebbe spendere di più È una cavolata Ed è una cavolata Non tanto Perché Il presidente Abbia fatto anche direzione In particolare Ma perché non è vero Che se tu vinci Poi dopo sei costretto A spendere di più L'Inter L'anno scorso Ha vinto lo Scudetto Quest'anno ha venduto Lukaku e Achimi Che erano i due giocatori Più forti Che aveva in rosa A una squadra Che è nettamente Inferore a quella L'anno scorso Lo dice il campionato L'anno scorso Aveva 20 punti di vantaggio Sulla terza Oggi non li ha Oggi si gioca Il campionato Quest'anno Ed è chiaramente Una squadra più debole E sentito Che Per la presidenza Dell'Inter Si è spaventata Di questa cosa No Perché i conti Non tornavano Li hanno fatti tornare Facendo sacrifici Oggi l'Inter È una squadra Che è nettamente Inferiore A quella dell'anno scorso Nonostante abbia cambiato Pochi giocatori Però non è che Vincere allora Ti obbliga A diventare più forte In automatico A spendere di più A fare grandi acquisti È chiaro che Se tu vinci A Napoli L'anno dopo Speri di lottare Di nuovo per vincere Ma questo non vuol dire In automatico Che se De Laurentiis Vince l'anno dopo Deve spendere Il triplo Alzare il monte in gaggio Comprare chissà Che giocatore A cifre astronomiche Se vinci Vinci Poi l'anno dopo In base a come È la situazione Corrente Di bilancio Eccetera eccetera Fai le tue valutazioni L'ha fatto l'Inter L'ha fatto la Juve Non è che noi non lo possiamo fare La Juve dopo Avevano i scudetti Ha fatto una squadra Che è nettamente Inferiore a quella Che era la Inti E ha peggiorato Anno per anno Tanto è vero Che oggi Si fa Arrivato a un quarto posto Non voglio dire fortunoso Ma Per come è iniziata la stagione Anche loro hanno fatto Un comeback Abbastanza importante Ma non è che vincere Obbliga A fare qualcosa Vincere Ti porta qualcosa In tasca Poi come lo vuoi investire Che bisogna investire Te lo dice il bilancio Tutte le nuove leggi di bilancio Abbiamo visto che Il freppe finanziario Andrà in pensione Ne arriverà un altro Che poi sarà scavalcato In un'altra maniera Non ci giriamo Ma sicura Te lo sappiamo già Però Se non sei il PSG Se non sei il Manchester City Non sei obbligato A migliorare Perché i soldi ce li hai L'Inter l'ha fatto Ha peggiorato la squadra La Juve l'ha fatto Ha peggiorato la squadra E questa è la discussione Poi è chiaro Magari Vincere Porterà una maggiore Intensità Nei tifosi Di voler vincere di nuovo Ma non è che Se non vinci Allora ti potevi scappare L'Inter potrebbe non vincere L'anno scorso ha vinto Ma l'anno prossimo Fa una squadra più forte Non lo possiamo sapere Ma non è Un'equazione Per forza Di cose così Che Una volta che hai vinto Poi devi spendere di più Bravo Sono d'accordo con te Sono d'accordo con te Allora Ragazzi Noi Diciamo Facciamo una cosa Rifermiamoci Anche perché avevamo saltato Il blocco delle 15 e 30 Ci rifermiamo Così voglio aprire le linee Adesso Proveremo Col vostro aiuto Vi raccomando A stare Collegati con noi Telefonateci Quindi mi raccomando Parlate sempre prima voi Poi Noi vi rispondiamo La domanda È quella semplice È una domanda Diamo tanto spazio Ai tifosi oggi Sia oggi Domani Insomma daremo Sempre la stessa domanda Per farvi rispondere Un po' a tutti Tutti gli amici Di Club Napoli Che spesso non ci riescono A chiamare Che non ci riescono A messaggiare Allora Terremo questo Diciamo questo risultato Questa domanda Per più tempo Allora Fermiamoci adesso Con l'aiuto di Marco Andiamo in pubblicità Apriamo le linee Dai Voi soprattutto Perché in questo momento La vedo durissima Caro Marco La vedo molto molto dura Va bene Va bene Allora dai Ci proviamo In qualche modo Allora Apriamo le linee Dai Apriamo le linee Vediamo un attimo Se riusciamo A collegarci Con i nostri amici Da casa Abbiamo una seconda soluzione Ma la dovremo fare Nella pubblicità Allora Pronto È caduto Ah è caduto Va bene Allora Aspettiamo la telefonata 506 7764 Intanto c'era Gigi Molfetta Che ci aveva scritto Poi Raffaele Dopo risponderà Sì All'amico Gigi Che mi aveva Giustamente scritto Alcune cose Sulla questione dell'Inter Però ragazzi Non è un problema Dell'Inter Il problema è nostro Il problema è il nostro Poi Io non sono d'accordo Che De Laurenti Non vuole vincere Però non sono neanche D'accordo Che De Laurenti Si ci metta Il massimo Per vincere Ok Allora Pronto Pronto Ragazzi fateci sentire qualcosa Pronto Pronto Una notizia ufficiale Il Cagliari Dopo aver esonerato Mazzarri Ha annunciato ufficialmente Che Agostini È il nuovo allenatore Almeno fino a fine stagione Quello dell'ex Cagliari È proprio lui Bandiera dello Sobruce Il Cagliari Comunica Di aver affidato La guida tecnica Della prima squadra D'Alessandro Agostini Questo omeriggio Sarà in campo Per dire Gervi Se agli allenamenti Va bene Allora ragazzi Mazzarri è ufficialmente sostituito Sento qualcuno in lontananza Pronto Eh va bene No Sei lì la voce Quindi non parlare Vediamo se sentiamo I tifosi Pronto Senti pochissimo Qualcosa sentiamo Dai Ma molto poco Pronto Qual è il tuo nome Allo stadio Qual è il nome Del signore Però volevo sapere Rino Gennarino 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 Ok Gennarino Fammi sentire Fammi sentire Gennarino Marco Fammi sentire Gennarino Allora Gennarino E che dobbiamo pensare Gennarino E che facciamo a fare Casa da conto Tutte cose Cazzo Negoccio Scolo Metropolitano Pumano Tutte cose Ne parliamo nel nostro telegiornale Ne parliamo in Campania Oggi Gennarici Devi seguire negli altri orari Non negli orari di Club Napoli Club Napoli È una trasmissione Che Parla del calcio Napoli Parla del calcio Napoli Con tutto il bene Insomma Più di questo Non possiamo Non possiamo fare Vabbè dai Allora Vediamo se ci sono altri Vuoi rispondere Vuoi rispondere un attimo Al nostro amico Gigi Molfetta Sull'Inter Sì Io non parlavo Di ridimensionamento Dell'Inter Parlavo del fatto Che la squadra dell'Inter Oggi È più È inferiore A quella dell'anno scorso Secondo me Perché Ha perso I due giocatori più forti Che aveva in Rosa Sono stati sicuramente Costituiti Perché comunque Sono arrivati Dzeko e Danfries Che non sono brutti giocatori Però non sono Lukaku e Akimi Neanche in campo Lo sono Secondo me La squadra dell'Inter Oggi È meno forte Quella dell'anno scorso Non vuol dire Che l'Inter Si è ridimensionata E che quindi Non sta lottando Per lo scudetto Non è arrivata in Champions E non è lottata in Coppa Semplicemente Che la Rosa Che l'anno scorso Ha vinto il campionato È più forte Della Rosa Con cui l'Inter È presentata quest'anno Poi Ripeto Questo non ha tolto All'Inter La possibilità di lottare Per lo scudetto Che potrebbe ancora vincere Di provare in Champions Fino all'ultimo A andare più in fondo possibile E in Coppa Italia Allo stesso Il fatto di vincere Non vuol dire In automatico Spendere di più Per continuare a vincere L'Inter Non se lo poteva permettere Ha dovuto vendere I due giocatori più forti Più rappresentativi Che aveva il rosa Perché economicamente Non riusciva A supportare Il rosso in bilancio Che all'epoca Era molto alto Di conseguenza Non è che l'Inter Non ha speso In senso assoluto Sì ridimensionata Semplicemente Ha dovuto spendere In maniera oculata Prendendo giocatori Di un certo tipo E perdendo quelli Che erano I due giocatori Più forti in rosa Nelle loro rispettive posizioni Credo che questo Sia innegabile Poi è chiaro che L'Inter non è il Napoli Il Napoli non è il Milan Il Milan non è l'Inter Ognuno dovrà vedere Poi a fine stagione Come è andata Fare le proprie valutazioni Eccetera Ma vincere non obbliga Nessun presidente A spendere di più Né l'obbliga A spendere di meno Si valuterà In base a quelli che sono I parametri soliti Con cui la società Valuta Ogni anno E si faranno I mercati adeguati Non c'è scritto Nessuna parte Che l'Inter vince E allora il presidente Deve spendere di più O il Napoli vince E poi deve spendere di meno Semplicemente Ho notato Che l'Inter Quest'anno Secondo me È una rosa inferiore A quell'anno scorso Non vuol dire Che non è competitiva Sono d'accordo Sono d'accordo Poi è chiaro Ognuno pensa Come vuole Allora l'Inter Rimane competitivo Non è bene Che comunque Sta giocando il campionato Assolutamente Allora proviamo a fare Un'altra telefonata Se c'è Marco Facci sentire qualcuno Pronto Pronto Francesco Pronto 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 Francesco Sì Oreste Sì Buonasera a te Raffaele E tutti i tuoi collaboratori Ciao Oreste Parla tu Parla tu C'è una domanda Che la devi fare A presidente Il presidente Rimane soddisfatto Che il presidente Prendi i soldini Noi abbiamo Buttato la nostra Passione Noi buttiamo La nostra passione Il nostro amore Questa maglia E purtroppo Noi non ci abbiamo Nessuno di calo Noi spendiamo i soldi Per pagare Le televisioni Per comprare Le maglie Le tute Tutte le robe De Napoli E poi Soddisfatto Che abbiamo buttato Scusami una parola Un campionato In eccesso Che il Napoli L'ha buttato In eccesso Allora io Sono sempre d'accordo Con il mondo di Capimondo Però Questa volta Mi viene a dire Che l'Inter È più forte Del Napoli E che la Juve È più forte Del Napoli Milano È più forte Del Napoli Non sono d'accordo La Juve Non è più forte Del Napoli Ma neanche L'Inter è poco Centrocampi Se l'Inter Ci deve Centrocampi Titolato L'Inter Non fa tutti questi punti L'Inter Non farà tutti questi punti E poi l'Inter È una squadra Che è stata anche Deutata Allora Il signor Mi deve spiegare Mimmo Non è una polemica Lo sai che ti stimo E ti voglio bene Però Ti voglio far capire una cosa Che il Napoli Tutto La Fiorentina Ha perso Con la Salernitana E non penso Che la Salernitana È più forte Del Napoli L'Empoli Non so Da quanto non vinceva Quante partite Non vinceva E si ha battuto La Roma La Roma La Roma Abbiamo buttato I tre punti Nel recupero Perché il signor Spalletti Ha passato il bar Recenti E ha messo la risorsa a 5 Allora Il signor Spalletti Purtroppo È inutile Che dipendiamo Il Presidente Quante sbagli Dipendiamo L'allenatore Quante sbagli No Io credo La squadra Quante sbagli Ma devo criticare Anche l'allenatore Quante sbagli Per me Il signor Spalletti Si porterà Sulla coscienza Molti punti Che ha perso In questo Campionato Secondo il mio punto di vista Oreste Però ti voglio Fatemi Parla un attimo Con questo Oreste Non mi sento bene Devo No Però ti volevo Fare una domanda E voglio dire Per me Il mio pensiero Può dare sicuro Che ho tolto Per me Il signor Spalletti Ha buttato Vì il campionato Ma posso Sapere la squadra Che lui Ha fatto entrare Gli rischi E non ha fatto entrare Demme Che è sostituito Di Robosca Ha tolto Inzigni Ha tolto Rosana Ha tolto Simen E ha passato La squadra E abbiamo Per perso Dei punti Allora Mi fanno capire Se ho tolto O ragione Mi saluto E vi ringrazio Sempre Forza Napoli Sempre Forza Napoli Allora Oreste Ti volevo fare La domanda Sulla questione Di Spalletti Perché a questo punto È una domanda Che dovremo fare Nelle prossime settimane La continueremo a fare La proveremo a fare Il Napoli deve Secondo voi Cambiare allenatore Perché io credo Che in questo momento Il Napoli Non cambierà L'allenatore Non cambierà assolutamente E non lo riuscirà Ma non perché C'è qualche motivo Ma il Napoli Non ha le idee chiare Su un possibile Nuovo allenatore E soprattutto Pagare due allenatori Non è date laurenti Tutta la squadra In questo momento Pare che verrà rivoluzionata In qualche modo Però oggi Aspetta Scusa che ti interrompo Perché oggi Leggendo un po' Il giornale Le cose Ho letto Proprio perché Il Napoli Dovrebbe prendere 40 dalla Champions Più 16 Se arriva Terzo E quindi sono 56 Diciamo che Speriamo che Qualche partita La vinca Anche nella CEM Nel girone Diciamo che il Napoli Arriverà a 60 Milioni Questi 60 milioni Potrebbero bloccare Qualche eccessione Perché poi si parla Comunque di Taglio degli ingaggi Forte Si passerebbe da Oltre 120 milioni A 80 milioni Perché vanno via Goulam Malquit Forse va via Va via Insigne Potrebbe andare via Uno tra Fabio Anzelischi O Spina Quindi anche là Un altro taglio E via dicendo Quindi il Napoli Diciamo Se non avrà La super offerta Per Osimeno Quello che dicevo io Forse se lo terrà Per un altro anno O potrebbe tenerselo E comunque Se non arriveranno Offerte per Anzelischi Offerte per altri giocatori Il Napoli Riparrà questo Perché anche Lozzano Se era parlato Potrebbe andare via Potrebbe rimanere Allora Già sto sentendo Qualcuno Invece Che non ci sarà La super rivoluzione Cosa che per me Andrebbe fatta Sì Sì È il momento Di farla Andava fatta Il post Sarri Non è stata fatta E negli altri anni Abbiamo visto che La cosa è stata Più o meno Questa A parte qualche Giocatore Forse è il momento Di ripartire L'allenatore Ce l'abbiamo Proviamo ad accontentarlo Proviamo a cambiare Quello che va cambiato Lasciamo andare via Qualche giocatore Che non è più Convinto Che non dà il tutto Quando È il momento di darle Proviamo a ripartire Comunque Con uno struttore importante A questo punto Certo È così È proprio così Allora Vediamo se c'è Un'altra telefonata Così proviamo a sentire Poi dopo leggiamo Qualche messaggio Scrivete C'è come Scrivete Ciao 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 Un saluto a tutti Ciao Io volevo ascoltare Dalla tv Perché dal telefono Si sente bassissimo Ok Parla tu Parla tu Poi dopo ci senti Ok Allora Direttore L'obiettivo è stato Raggiunto A inizio Campionato Le pretendenti Al titolo Erano l'Inter E la Juventus La Juventus Dopo le prime 6-7 partite Ha fatto chiaramente Vedere Che non era Cosa sua E l'Inter Era la favoritissima Ora il Napoli Si è trovato lì E per l'ennesima volta C'è poco da fare Questo gruppo Ha dimostrato Perché l'ha dimostrato Altre volte Il Napoli Non è la prima volta Che si gioca Allo scudetto Perché è inutile Che noi ci raccontiamo La favola Dell'albergo Che noi Cioè Vista Inter Juve Poi scendiamo In campo E prendiamo Tre pulpette La Fiorentina E' inutile Che crediamo A queste favole E' proprio La squadra Che nei momenti Dove bisogna Cacciare le palle Non ce l'ha E purtroppo Direttore Io Cioè Non voglio Però io qui Ci metto i senatori Cioè Io sinceramente Non posso Mettere Ermas Non posso Mettere Ermas Che sta Nannando L'Anna Io ci metto I senatori E ci metto Alicuore Pure il capitano Cullibali E io ci metto Tutte i senatori Quelli là Che hanno fallito Più volte Quest'occasione Ci metto Alzerisco Ci metto Ammertese Ci metto Insegno Ci metto A Cullibali E senatore La squadra E mi posso Mettere E mi posso Mettere qui La squadra E mi posso Mettere qui E diciamoci Le cose Come stanno Altri che So C'è Presidente Lo Presidente L'Akrizzogam C'è C'è La partita Con il Sassuolo E' stata Una gita Turistica Il Napoli Quando è arrivato Nel momento Cru della stazione Fiorentina E Roma E' tutto Proprio C'è Era proprio Scarica A parte Che quella Squadra Perché C'è Ogni partita A sé C'è Noi possiamo Non Paragonare La Fiorentina Vista San Paolo Con la Fiorentina Vista Contro La Fiorentina Perché la Fiorentina Quest'anno Con l'Italiana Di partite Importanti Ne ha fatte Ma che Con Napoli Si è Superata Proprio Poi Lascia stare Che il Napoli Che a mio avviso L'ho scudetto Totalmente Fuori dai giochi Lo è stata Nella partita Dopo Contro la Roma Perché Piede una partita Avese E tutto Pignano Vole L'89 E' Tanto è Vero Che poi La settimana La settimana scorsa Lasciando stare Il Napoli Che non c'entrava Più nulla E che perde Con l'Empoli La settimana scorsa Praticamente Crolla Anche la favorita Numero uno Che è l'Inter Perché Si è recupero Con il Bologna E praticamente Si è spalancato Un portone Per il Milan Alza squadra Che come il Napoli Era assolutamente Non candidato Alla scudetto Ma con una differenza enorme Un gruppo unito Da quattro anni Quattro anni Pioli sta lì Gruppo più unito E che anche Nel momento E c'è Sinceramente Un Milan Per quello Che ha fatto Merita Lo scudetto Perché Non dimentichiamoci Tre punti Tolti contro Allo Spezia Il Milan Era in gol E il gol Tra il 2-1 L'arquidro Già aveva fischiato E poi due minuti dopo Segna Lo Spezia E un Milan Perde Un gol L'Udinese Che ha un gol Di mano L'altro Vinciano 1-0 Un Milan L'Udinese Segna 1-1 Con un gol Di mano Cioè Un Milan Merita Lo scudetto Da sportivo Perché Non solo Non è la squadra Più forte Perché Per me La squadra Più forte Quest'anno Era l'Inter Era la favoritissima E infatti Se vinceva Col Bologna Il destino Era nelle sue mani E oggi E oggi Attenzione Il Milan Addirittura Un pareggio Può soffrire Anche di un pareggio Però L'uomo Anceva a capo Questo gruppo Ha dimostrato Chiaramente Nonostante I nostri Beniamini E quindi Io sono d'accordo Per la rivoluzione Ma attenzione Ti ho detto Se è una rivoluzione Con tutto rispetto A me lo fa piacere Carimane Meritense Ma se è una rivoluzione Vede Rosimena E fare 45 partite Perché Se sta pure La Champions League Col titolare Mertens Allora Si dica la Coppa Vada Mando L'Europa L'Igo La Rimma Perché Ci arriva Ma non è mai Mertens Non deve fare Il titolare Mertens Deve fare La seconda punta La riserva Di lusso Allora Ciro Fammi dire un attimo Il ragionamento Ma Verrà un altro Attaccante E' chiaro Che viene Si sta parlando Di scamacca Si sta parlando Di altri giocatori A me non piace Scamacca Non è così Non è così E lo sa anche No E che fa Mertens Il titolare In Napoli Ha tirato avanti Con Milik E Mertens Ha tirato avanti Con Milik E Mertens Quando La società Ha visto Da non Nelle cose Ha figliato 60 milioni Non pensi Ma l'ha preparato Per anni Sto colpa Perché Io non so Che quando Ha visto Su Stata Reta Sto E Sto 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 Pugli Ti punti I bianco Un'altra Petta O Si Mego Rimpiazza Secondo Me No Cioè Lo rimpiazza Anche Perché I soldi Spend Ma Chi Sa Come Spend Cioè Il Napoli Andato Avanti Con Milik E Mertens Che Si Alternavano Quando Ha visto Che I risultati Non vedevano Giù Perché Non Poco Polacca Ha visto Che Non Ha Mai Sfondato Anche Per In Fortuni Però Era Un'altro Mertens Mi Giro Lo so Però Che Sto Dicendo Che Vedete La Facetà Quando Ti Mi Aspettate Di Rimpiazzarlo Io Non Penso Che Si Meno Un'altra Piglia Terno L'Origuatorale Dall'angolo Non Penso Proprio Io Penso Che No Eh Vabbè Ma No Le Vie Di Mezzo Le Vie Di Mezzo Ciro Ma Secondo Te Il Napoli Prende 100 Milioni Non Compra Un'altra Attaccante Rispondimi Ti Prego Perché Veramente Non Ti Seguo Mertens Che Tu Hai Criticato Per Tutto Il Campionato Ma Si Prenderà Un'altra Attaccante Ciro Ma Non Ti Preoccupare Io Guarda Io Sono D'accordo Con Guardate Io Dico Pure La Coppa Avana Poi Se Napoli Vendosi Men E Pigli Scamacca Non andiamo Neve In Nel Apoling Perché Nessuno Non Nessuno 40 Ma Ti Piace Scamacca O No Penso Di No Ma Scamacca Ti Piace Sì O No 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 Siamo D'accordo Una Volta Siamo D'accordo Una Volta Siamo D'accordo Va Beh Dai Mimmo Ciro Grazie Grazie Perché Se Non Andiamo Avanti Poi Non So Si Ha Fatto Ciro Grazie Ciro Grazie Ciao Allora Ha fatto Un lungo Giro Di parole Per Per D'accordo Con lui Che il Napoli Non può Prendere Scamacca Perché Se vende Ocimen Scamacca Per me Non è il giocatore Adesso Però Scamacca Dice che è il futuro Della nazionale italiana Il Napoli Però Attenzione Potrebbe anche Non prendere Scamacca Perché Potrebbe Siamo Che Scamacca Ma Mertens Non farà Il titolare Ragazzi Mertens Mertens È un giocatore Che farà Da chioccia Ma Per entrare nelle rotazioni Potrà fare la prima punta Quando c'è bisogno Giocherà la trequartista Quando c'è bisogno Se continuiamo Col 4-2-3-1 Insomma Non è che Mertens Giocherà 40 partiti Il prossimo anno Né nei piani di Mertens Né nei piani Dall'allenatore Lo sappiamo Non ci dobbiamo Raccontare queste cose Sicuramente Se andrà Viosi Man Sarà comprato Un altro attaccante Non credo Verrà preso Un attaccante Però Sibabio 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 Ancora Da provare Da lanciare Non dubito Penso che verrà preso Non voglio dire Un attaccante Affermato Oggi ho letto due nomi Uno del Ren Un altro Oddio Mi pare Una squadra tedesca Leggevo un po' di cose Si è parlato tanto Di Belotti Sì Già vedi Per esempio Belotti Non è il giovane A lanciare È un giocatore Abbastanza affermato Che potrebbe Fare Lo sostituto Sibabio Anche Belotti Non mi piace Attenzione Non stiamo Raccontando I nostri sogni Diciamo Quello che il mercato Fino a ora Ci ha raccontato Da gennaio in avanti Più volte Che ho fatto Il nome di Belotti E accostato al Napoli Perché Belotti andrà via Si sa Non E sarebbe andare via A zero Quindi Diciamo che sarebbe Un'occasione Per chiunque lo compra Insomma Per un giocatore Forse avendo Forse avendo Rinnovato Mertens Allora Belotti Non è l'uomo giusto Non lo so Perché poi Bisognerebbe Capire le posizioni Bisognerebbe Fare un ragionamento Se vendi Ozyman Che è comunque Un giovane Futuribile Non è ancora Un grande campione Affermato E ne prendi Un altro Ozyman Ti tenevi il primo Che è già stato Da due anni qua Va comunque Secondo me Sostituito Con un giocatore Non voglio dire Il grande campione Affermato Alan Della situazione Ombappé Però insomma Già un Belotti È Prospettivamente Migliore Poi è chiaro Che non è Magari il giocatore Migliore Che potremmo Prendere In quel ruolo Però È quel tipo Di giocatore Che secondo me Andrebbe preso Perché se dobbiamo Prendere un nuovo Giovane Alla lanciare Tanto vale Che ci troviamo Il nostro Speriamo di Vedendolo A 200 milioni L'anno prossimo Sono d'accordo Allora Voglio leggere Altri messaggi Poi andiamo dopo Al telefono Antonio Di Matteo Dice Sì sono contento Ma mai come quest'anno Potevamo essere Più in grande Potevamo spensare Più in grande Donato Ninno Buon pomeriggio Avete ragione Ma vediamo Il bicchiere Mezzo pieno E poi questo problema Se lo vogliamo chiamare Tale Viene dal campionato Che non abbiamo vinto Con 91 punti Ora è il momento Di rivoltare Il calzino Iniziare un nuovo Percorso Giovanni Carlo Scrive da Washington E dice L'appetito Venire Mangiando Catello Antimo Castellano Dice orgoglioso Di questa qualificazione Peccato per il tricolore Gerardo Ma bisogna Ingolosirsi Caro direttore ADL Pontifica troppo Ma non promulga In cicliche significative E pretende Di darci lezioni di vite Giuseppe Scrive Buon pomeriggio Direttore Ma è vero Che il presidente Vuole il direttore sportivo Bagni È una voce Ma non credo Ci sarà Angelo Dice Direttore Io prenderei Scamacca E Simeone Più Mertens Ecco Potrebbe essere un'idea Nicola Nappa Bisogna dire Aggiuntoli Di andare a vedere In Argentina Ci sono grandi Attaccanti Poi prima C'era Rodolfo Dice Quando capiremo Che la vittoria È solo un sogno ADL Va bene Così Poi 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 Gigi Molfetta L'avevamo L'avevamo letto Antonio Dice Buonasera Io sono soddisfatto Se guardo A prima della partenza Del campionato Ma poi se guardo Come si è perso Il campionato Mi fa rabbia Ci sta che puoi perdere Per carità Ma non Presentandosi in campo Come fantasmi È stato incredibile Eh lo so L'abbiamo Ditto Arnatovic del Bologna Dice Luigi Vingiani Vabbè però Io prenderei Di Bala Ma Di Bala Prende troppi soldi Chiede troppi soldi Non solo li prende Chiede ancora di più Chiede ancora di più Quindi impossibile Ragazzi ci fermiamo un attimo Andiamo in pubblicità Torniamo e andiamo Ad aprire le linee Dai Eccoci Eccoci tornati Allora Secondo me I soldi che vuole De Laurenti Spero si meno Lo compra nessuno Almeno per l'anno prossimo È ancora troppo acerbo Per ambire Alle squadre inglesi Lo sai che sono d'accordo io Allora Io sono convinto Che il Napoli Avrà Qualche richiesta Per il signor Osimè Però 100 milioni Nessuno glieli dà Non lo so Tu dici no Non Magari non saranno I 120 10 che si sono sentiti A A gennaio Da qualche squadra Ma Meno di 100 Non si tratta No Meno di 100 Non si tratta Però Secondo me Qualcuno Che sia disposto A spendere Lo trovi Poi Se sia la La squadra giusta Per Osimè Che sia una squadra Di vertice Non lo sappiamo Ma non ci scordiamo Che il Newcastle Pareva averli offerti 100 milioni Ora saranno stati 110 oppure 90 Insomma Stiamo là E quindi comunque Osimè potrebbe avere mercato Però Da quello che dicevi tu prima Se i soldi ci sono Forse è meglio Aspettare Un altro anno Per poi venderlo Se l'obiettivo è quello L'anno prossimo Ha una cifra Poi la sicuramente Più consistente E magari investire Quei soldi che ci sono Per Completare la rosa In altre parti Comunque Andrà via Insigne Un certo rampista Potrebbe andare via Abbiamo bisogno Dei terzini Come il pane Perché Andrà via Curam Andrà via Malcui Di Lorenzo Abbiamo visto Che se non c'è Un'assenza Che si fa sentire Quindi andrà preso Un terzino destro Sicuramente Per coprire Potremmo finalmente Vedere Del sostituto Di Mario Rui Che fortunatamente Quest'anno Ha tenuto Ma senza di lui Poi dopo è diventato Complicato lo stesso Perché Quangelesus Non è un terzino sinistro Perché Goulam È stato a mezzo servizio Anche quest'anno Tutta la stagione Quindi I soldi Il modo per spendere I soldi c'è Anche senza Vendere Rosimène No no Il modo per spenderli I soldi c'erano Sicuramente Però comunque Ci sono tante situazioni Da andare poi a risolvere Intanto A proposito Dio di Spalletti I colleghi di Scaici Chi è prenduto un dettaglio Francesco Modugno Risponde Secondo me rimangono Tutti e due Perché la domanda era Chi resta tra Mertenzi E Spalletti Ma c'è bisogno prima Di fare due passaggi Una bella chiarata Presidente allenatore Mentre per il passaggio Di Dries È l'inizio Di un'attativa economica C'è l'esigenza Di mirsi incontro Le cifre rispetto Ad altri anni Saranno diverse Bisogna fare uno sforzo In entrambe le parti Quindi comunque Quelli di Sky Dicono che rimarranno Entrambi Per quelli che ce l'hanno chiesto Questa è la situazione Ad oggi poi Un chiarimento Assolutamente Questo è un tema Ragazzi Che proveremo a fare Sicuramente Ragazzi Noi saremo in onda Fino a fine maggio Oggi è soltanto Il 3 di maggio Tutto un mese Per parlare di queste Per parlare ancora Di tante cose Non credo Che queste tre giornate Di campionato Ci cambino la vita Sicuramente Il Napoli per me Dovrebbe difendere Il terzo posto Almeno il terzo posto Sì sì Almeno quello Anche se non conta niente Ecco Conto un paio di milioni in più Sì sì Dalla Liga Calcio Però arrivare terzo È meglio arrivare quarti Sicuramente Lascia il tempo che trova Tra primo e quarto Però insomma Bravo Quindi diciamo che Fondamentalmente Fino all'ultimo secondo No Fino all'ultimo secondo Me lo riuscire Bisogna onorare il campionato Fino alla fine Onorare la maglia Come dicono sempre i tifosi Quindi comunque Diciamo Il Napoli ha ancora due partite In trasferta Uno in casa Si chiuderà con il Genoa In casa Non so se il Napoli Regalerà qualche Punta il Genoa In chiave salvezza Non lo so come andrà a finire Questo ripeto Mi interessa di meno Di quello Però è chiaro Che questa questione Spalletti Mertens Partita Perché non si può Cominciare Una nuova stagione Con il tormentone Mertens Spalletti Io Sendo l'idea Che bisognerebbe iniziare Una stagione Senza tormentone Il tormentone Il tormentone Il terzino Il tormentone Insigne Il tormentone Mertens Tutti quelli che abbiamo Vissuto l'anno scorso Fondamentalmente E anche l'anno prima E anche l'anno prima Ancora Ogni anno Il Napoli ha un tormentone Estivo Che poi ci portiamo avanti Fino a fine stagione Bisognerebbe risolvere Tutti questi tormentoni Bene o male Questo poi lo vedranno loro Però insomma Bisognerebbe risolvere E mettere dei punti fermi Allora Insigne se ne va E abbiamo risolto un tormentone Goulam finalmente se ne va Mi dispiace per lui Ma ci risolve Un tormentone Andrà preso un terzino E avremo due terzini Come Dio comanda Bisogna risolvere Questo qua Dell'allenatore Di Mertens Di cui stiamo parlando E quello si deve risolvere Però iniziare la stagione In qualunque modo Si voglia fare Con qualunque obiettivo Con qualunque squadra Senza tutti questi tormentoni Che poi Ciclicamente Come abbiamo visto negli anni Torneranno Per questa storia del terzino Abbiamo parlato All'inizio di settembre Poi è tornata Al primo infortunio di Mario Rui Poi è tornata di nuovo Al mercato di gennaio Poi è tornata di nuovo Quando non c'era Il sostituto di Lorenzo Io direi Che tutte queste situazioni Di inizio anno Che si possono risolvere Vadano risolte Per poi iniziare Una stagione E trovare I nuovi tormentoni Del momento Non portarci avanti Questi qua Che sono vecchi e stravecchi Non so se hai capito Dove voglio andare a parlare Però ripeto Io credo che Il tormentone Mertens Spalletti Si debba chiarire Assolutamente Anche perché Abbiamo voluto Tenere Mertens In tutti i modi De Laurentiis De Laurentiis Tra virgolette Ha un po' accontentato La piazza Lo ha fatto anche In quel giorno Dell'ammutinamento Delle situazioni Non ammutinamento Del ritiro Che poi è saltato Sì 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 Quindi fondamentalmente Possiamo dirlo Con chiarezza Abbiamo scelto Mertens Abbiamo scelto qua Marco ricordo Che sei sempre in viva voce Quindi insomma Ci sentiamo Ok perfetto Allora Ah ecco Benissimo Grazie Allora dicevo Assolutamente Non ci deve essere Il tormentone Perché abbiamo avuto Abbiamo voluto Mertens Fortemente voluto Mertens Ora se ci sarà Un tormentone Mertens Spalletti Sarà Logorante Logorante Da dimaro Da oggi Da domani Da dimaro Dall'inizio Della stagione Sarà logorante Perché sarà terribile Allora si chiariscano Mertens E Spalletti Se uno dei due È di troppo Vada via Potrebbe essere Anche l'allenatore Potrebbe anche Essere l'allenatore Sì anche perché Dopo tutta questa questione Di quest'anno L'anno prossimo Ogni panchina Ogni ingresso Del giocatore Gli ultimi cinque minuti Ogni prestazione Che potrebbe Non essere perfetta Ricomincerà Questo tormentone Che ce lo porteremo avanti Giornata per giornata Tutto il campionato Non è solo Logorante Ma proprio Fisicamente stancante Anche per chi guarda La partita Per chi come noi La commenta Dovremmo rispondere Ancora alle domande Ma Mertens Ma Spalletti Ma perché non gioca Perché gioca Sposta l'attenzione Magari da quelli Che potrebbero essere I temi importanti Sapere se giocherà Non giocherà Ogni giornata Perché poi è chiaro Che mo' C'hanno tutti e due L'obiettivo addosso Quindi ogni presenza Ogni assenza Sarà un motivo di discussione Secondo me il Napoli Non è una squadra Che si può permettere Queste cose Perché dovrebbe puntare A ben altre situazioni Allora vogliamo provare A fare un'altra telefonata Vediamo un po' Cosa dicono gli amici da casa Direttore buonasera Ciao Chi è Umberto Buonasera direttore Buonasera Raffaele Sono Umberto Ciao Umberto Allora Sei Umberto Come al solito Parla tu Poi ti rispondiamo A fine telefonata Vi sento Vi sento lontanissimi E poi dopo mi rispondi E anche noi Non sentiamo molto bene Quindi Alza al massimo La voce Alza al massimo Allora Cosa c'è da essere contenti Della qualificazione Allora Mi spiegate Aspe 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 La domanda è formulata Nel modo più Come dire Banale Mi corretto Uso questo termine Aspe Fammi finire Fammi finire Allora Se mi fate finire Allora Vi sto facendo una domanda Se La qualificazione Champions È Una cosa che Ci aspettavamo Era quella la cosa Che ci aspettavamo Lo sapevamo Poi ci piacciono Io anch'io Non sono soddisfatto Ok Allora ti rispondo Diciamolo Che la qualificazione Champions Era il nostro obiettivo Sei d'accordo? Allora Posso rispondere? Vai Ok Non mi interrompete però Mi rispondete alla fine Poi della telefonata Ok Non è mai stato Un mio obiettivo Come tifoso La qualificazione Champions È del motivo È del motivo Perché anche Per il passato Segna Segna Raffae Però mi rispondi Anche per il passato La qualificazione Champions Non è mai stata Propedeutica Un rafforzamento Della squadra E a vincere Qualche cosa Quindi vorrei capire A me come tifoso Io parlo da tifoso Che cosa mi serve La qualificazione Champions I soldi che entrano Al presidente Per la Champions Servono a rafforzare La squadra? No Non l'ha mai fatto Tranne con Benitez Con Miracolo L'ha fatto Benitez Non l'ha fatto lui Negli anni Che non c'è stato Benitez Non l'ha mai fatto Punto 2 I soldi della Champions Sono serviti A costruire Un settore giovanile? No Punto 3 I soldi della Champions Sono serviti A creare qualche struttura Che lui Lascerà Spero il più presto possibile Quando si leverà Dai coglioni Lui e la sua famiglia? No Allora Mi spiegate Perché io dovrei Essere soddisfatto Come tifoso Della qualificazione Champions A me Che cosa cambia Che il Napoli Arriva a secondo Terzo Quarto Quinto Sesto Non cambia niente Non cambia niente Perché la qualificazione Champions Dovrebbe servire A potenziare Il gruppo Per dire Un anno Vado in Champions Quest'anno L'anno prossimo Vado in Champions Scopro due giocatori Forti Con le palle Che metto in mezzo Al campo E dico qualche cosa Di importante Così come Io non accetto Proprio alcun tipo Di discorso Relativo a Ma questo era L'obiettivo Di inizio stagione E che significa Quando l'altretico Madrido Il Borussia Tornado Hanno vinto Lo scudetto Con l'obiettivo Avevano il titolo Nei loro campionati Si sono trovati lì Sono andati avanti Hanno avuto comunque Una società alle spalle Che li supportava E li spingeva Che non faceva le scene Quando era in pericolo L'obiettivo Champions Ma faceva le scene Prima di Napoli Fiorentina Ok Quando c'era Quella famosa Prospettiva E alla fine Hanno vinto il titolo Allora Questa proprietà Si è sempre Contraddistinta Solo ed esclusivamente Per i suoi interessi Economici Mai e poi mai Ha fatto qualcosa Per i tifosi E ripeto Quando se ne andrà Speriamo più oggi Che domani Non lascerà niente E' chiaro Questo è il discorso Solo ed esclusivamente Introiti economici E' sempre stata questa L'idea Di questa proprietà Come potrei essere Io Tifoso del Napoli Soddisfatto Di una proprietà Del genere Se già è stato Preannunciato Che ci sarà Un ridimensionamento Tecnico Importante Con o senza Champions Mi spiegate Che cosa Mi aspetto Io Dalle entrate Champions Poi L'ultima cosa Rispondo a Raffaele Suscamarca Futuro Centravanti La Nazionale Anche Meret Futuro portiere Della Nazionale Caro Raffaele Qui Arrivano Solo ed esclusivamente Prospetti E sarà sempre così Gli unici Giocatori Fatti Che sono arrivati Sono arrivati Conveniti Batti a vedere Gli ultimi 10 o 15 anni Di campagna Acquisti Del Napoli Perché Arrivano qui I prospetti Nel momento in cui Cominciano ad essere Quasi calciatori Importanti Vengono ceduti E questa è la storia Di questa ditta Di questa ditta De Laurentiis E sarà sempre così Con Champions Senza Champions Cacop Italia Cacop Ronon E Cacop Algida Questo è Il discorso è sempre lo stesso Si compra con i piedi E si vende con le mani Questa è la mission Leviamocelo dalla testa Babbia o Simen Non verrà mai Benzema O Cavani Verrà sempre Scamac Simeone Assolutamente Oppure Uno a piacere vostro Che avete nominato prima Che vi ha dai nomi impronunciabili Vi ascolto Perché non vi sento più E vi ringrazio Buona serata Grazie Grazie Ciao Umberto Allora Andiamo per gradi Sì Allora Il primo punto che ha toccato È che la Champions Non dovrebbe essere Il nostro punto di arrivo Ma dovrebbe essere Il punto di partenza Sicuramente Sono d'accordo Però A inizio stagione Mentre negli altri anni Anche a Di Maro Te lo ricorderai Caro Umberto E noi ci siamo sempre stati E ve l'abbiamo detto Si era parlato di Scudetto Si era parlato di campionato Con diversi allenatori E con diverse situazioni Quest'anno Per la prima volta E mi ricordo che lo sottolineiamo Non si parlo di Scudetto A Di Maro Gattuso Aveva lasciato Una squadra Demotivata Spalletti E il presidente Avevano Detto Che La cosa importante Era Soprattutto Spalletti L'aveva detto Di ritrovare La passione Dei tifosi E soprattutto Anche Giuntoli Se non ricordo male Lo disse Ritornare In quella Che era Lo spazio Dedicato Al Napoli Cioè La Champions Lo spazio dedicato Al Napoli Di competenza Del Napoli Poi Lo ribadisco Anche per me L'Europa Cioè La Champions Non può essere L'unico punto di arrivo Però per loro Che avevano fallito Per due anni consecutivi Questo maledetto Traguardo Era come Salire Un gradino Più su E questo E penso che sei D'accordo Caro Umberto Poi Poi Collegandosi da questo Cioè A che serve Se la Champions Se non li investi Nei giovani Nelle strutture Se non li investi Nel potenziare La squadra Questo non lo vedrai mai Questo ti rispondo Non vedrai mai Perché lui l'ha detto Che Il centro sportivo Va bene Quello di Castelvolturno Si faranno delle migliorie Forse Non lo so Però È così Sui giovani Abbiamo capito Che non si investe Perché La situazione È legata A una cantera Che non è mai esistita E mai esisterà La primavera del Napoli Avete visto Va avanti con Situazioni positive Come questo Ambrosino Questo Vergara E poi Ulteriori situazioni Che vanno così In un certo modo Voglio dire un'altra cosa Su quello che era Il passaggio Champions A punto d'arrivo No Quando lui ha detto L'Atletico Madrid Mica si era puntato Alla Champions E poi non vinceva Lo Scudetto No 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 Lui diceva Mica quando Ha fatto esempio Del Borussia Dell'Atletico Quando hanno vinto Il campionato Spagnolo E tedesco Il loro obiettivo Dichiarato era la Champions Si sono trovati In una situazione del Napoli Di potersi giocare Il titolo E poi hanno vinto Loro hanno fatto bene Ma loro hanno fatto bene E' quel discorso Dell'ingolosimento Che Io Contesto A De Laurentiis Assolutamente Non Non mi fermerò In questa cosa Perché C'eravamo ingolositi Noi Si erano ingolositi I tifosi Ma si erano ingolositi Lo ribadisco I giornalisti Del nord Che normalmente Non si fanno Ingolosire Dal Napoli Si erano ingolositi Gente come Tardelli Collovati Che non sono sicuramente Vicini al Napoli Ho detto due nomi Che mi vengono in mente Così Era ingolosito Bergomi Che aveva parlato male Del Napoli Però aveva detto Io credevo Che il Napoli Potesse vincerlo Alla fine Sì Già dall'inizio dell'anno Gli dava al Napoli Bravissimo Come vincente Il campionato Quindi questo Lo ribadisco Il problema Che la squadra Non è che De Laurentiis Non si è ingolosito E che la squadra Non è riuscita Pur ingolosendosi Pur ingolosendosi Non è riuscita A fare questa situazione Ultimo pezzo L'ultimo pezzo Poi rispondi anche tu Se vuoi Sì 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 Chiudo Voglio prima rispondere A cosa servono I soldi della Champions Sicuramente Non va sottolaudato Il fatto Che i soldi della Champions Servono a non Depotenziare Quella che comunque La squadra Sicuramente Non vengono investiti Ragazzi i soldi della Champions Servono Servono sempre Su questo Io sono d'accordo Pur io Poi Sì Altrimenti tanti giocatori Serebbero dati Prima Quindi comunque I soldi di Champions Servono Poi non ci piacciono Perché non ci vanno In tasca a noi Sono d'accordo Ma questo è un ragionamento Che abbiamo fatto Tanti anni Voglio rispondere Angelo Madda Ventriglia Che non è d'accordo Con Umberto Dice Da 14 anni Sempre in Europa Sono 13 anni Ok De La Redis Dice La signora Madda Dice Noi De La Redis Non hanno nessuno Alle spalle Questo hai ragione Questo hai ragione Questa è una scelta Però è una scelta Bravissima Una scelta In tutti i sensi Poi non so se volete L'ultimo punto Lui parlava Del fatto che Andrà via Andrà via Osimene Sicuramente arrivare Un prospetto Perché Napoli Compra solo prospetti Sì assolutamente Se l'ho detto Non sarebbe arrivato Un campione affermato Ma magari Evitare di prendere Un nuovo Osimene Che è proprio Una scommessa E vedere come va Ma prende un giocatore Osimene Era una scommessa Prima Cioè diciamocelo Ragazzi Sicuramente Dove giocava Osimene In Lille In Francia Vi sembrava Un giocatore affermato No assolutamente Eh ma quello Diceva lui Arriverà un altro Osimene Dal nuovo Lille Però magari Non proprio prenderne Uno così Ma prendere Già un Belotti Che se tu lo prendi a zero E fa due buone stagioni Lo puoi riprendere Comunque a 50 E c'è guadagnato 50 voglio dire Già è un giocatore Più affermato Aspetto a magari Quello che potrebbe essere Un nuovo Osimene Ho detto Belotti Perché è uno dei nomi Che si è fatti Non è che io spero Che arrivi a Belotti Potrebbe arrivare chiunque Potrebbe andare Deve Osimene Questo non lo possiamo sapere Però io cercavo Un giocatore Non dico affermato Proprio Dei grandi campioni Benzema Eccetera eccetera Ma neanche magari Una scommessa Che tu devi vedere Sperare ogni partita Di che sia una scommessa vinta Va bene Penso abbiamo risposto a Umberto Sì 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 Credo che non Non ci sia altro Da rispondere Sì io poi ho condensato Tutte le sue domande Per punti Umberto ma guarda che Da parte mia Attenzione Io non sono contento Lo ribadisco Lo dico con forza Ma io non mi accontento Del passamento Champions Ma siamo Non mi accontento Dopo 13 anni Di continuare A arrivare solo In Europa E non vincere niente Esatto Quindi diciamo che Noi non siamo Assolutamente contenti Siamo contenti Perché Il Napoli Comunque Ritorna in quella Champions Che non aveva visto Per due anni E deve continuare A lottare Poi abbiamo capito Che il Napoli Deve crescere Crescere in tutto Nella società Nella squadra Nella dirigenza Nella comunicazione Nella comunicazione Nelle giovanili Nelle strutture Nelle strutture Il Napoli deve crescere Ma in questo momento Abbiamo capito Che questo è Il limite Poi Se De Laurentiis Venderà A un americano A un A quello che sarà Può essere Che potremo chiedere Di più A questi personaggi Però io dico Sempre una cosa C'è bisogno Di qualcuno Che faccia Da tramite Soprattutto Se dovessero venire Degli investitori Arabi Investitori Americani Investitori Di altra natura Anche i cinesi C'è bisogno Di qualcuno Che faccia Da collante Lo ribadisco I nomi sono sempre Gli stessi I Maldini I Nedved I Marotta I Galliani I Zanetti Questi sono i nomi Il Napoli Non ce li ha Il Napoli Deve costruire Una rete Osservativa Io lo Pensavamo L'altra volta Con Salvatore Soviero Ragazzi Ma è mai possibile Che in Paraguay C'è Maldonado Ma non si può Alzare il telefono E dire Caro Maldonado Ci vuoi aiutare In Paraguay Ci sono tre giocatori Interessanti Facceli vedere Può essere Che ne esce uno buono E questo è il problema Cosa che ha fatto L'Udinese Allora Ancora Umberto Vincere Non se ne parla proprio Continueremo a partecipare Caro direttore Purtroppo Lo so Lo so Lo so Però devi stare pronto E eventualmente Gli altri ti lasciano Un pizzico di spazio A infilarti Perché anche Ragazzi Quest'anno Milan Inter e Juve Vedrete Anche loro Avranno i loro problemi L'Atalanta È tra virgolette Morta Dopo due anni Fetenti di Champions L'Atalanta è morta Ragazzi L'Atalanta Quest'anno Rischia di non andare in Europa Ma neanche a fare La Conference League Questo ci deve far pensare Perché hanno Premuto Forte Sull'acceleratore Sono andati Fortissimi In Champions Poi però Al primo errore Sono cascati giù Va bene Va bene Va bene Va bene E allora Fatemi salutare La mia piccola nipotina Martina Un bacio Alla mia piccola nipotina Martina Ciao Martina Ciao Martina Allora Vogliamo fare un'altra telefonata Un'altra telefonata Sì Facciamo un'altra telefonata Pronto Pronto Ciao Francesco Ciao Raffaele Ciao 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 Allora Francesco Io Mi rispondete Il signor Scrive Bravo Se vuole segnare Tutte queste annotazioni Segna Raffaele Segna Alza un po' la voce Rosario Che non ti sento benissimo Allora Incomincia a segnare Lo scrivano Lo sai Il primo di Totò Fai il steppino Il primo di Totò Vai vai Caro Comparo Io ti dico E ti ripeto Guardate che mi sbagli Francesco Il signor De La Vente Ti sta diminuzionando Perché Già capito Che L'anno prossimo Milan Mana Agli Arabi Inter Mana I cinesi Hanno i soldi Juve Che due anni Che non ha vinto Quindi Vuole vincere A meno Arrivare sicuro A 100% Vanno arrivare Alla Centro Lì Guarda La Roma Gli americani Hanno i soldi Francesco Dietro Il signor Commisso Io lo so Perché C'ho un amico A Firenze Che sta facendo Quello che non ha fatto Il signor De La Vente Lo stadio È a livello Di centro sportivo E te ne hai soldi La planta Se non erro Sono subentrato In società Alcuni americani Con Il nuovo presidente Che ha fatto Quattro anni La cenzio lì Che c'ha i soldi Perché ti voglio dire La razza Voi lo dite Come De La Vente Quindi Quattro Cinque E poi ci sarà Diciamo La squadra Di relazione Fatemi capire Il signor De La Vente Cosa fa Anche il signor Spalletti Che dice Secondo me La fissura A voi Francesco Voi Cioè In malafede Ma con la malafede Francesco I mercati Una bella Cioccolare Incomincia a mangiare Tu non diventerà Perire Stavano Tutto quanto Stavano Di cioccolare Ma sì Sul gelato Io non lo so Perché Io sono contento Perché E ti rispondo La sua domanda Perché io dicevo Quinto Barra Sesta Sesta Arrivamo Non avevamo E non avevamo Incensurito Sono contento Sono buono Questi soldi Francesco Ma come Avete i soldi Dal signor De La Vente Io Umberto Mimmo E gli altri Amici Abbiamo i soldi Della Facenti Dico Dal signor De La Vente Fatemi capire No Ma no Perché Questo signore Francesco L'anno prossimo L'arrivano Manghe De La Vente Con le squadre Si stanno attrezzando E poi Ti dico Altra cosa E' chiudo Se tu Ricordi Bene In Napoli Con gli attaccanti Careca Maraduno Giordano Se ti ricordo Mano a mano Signor Ferlarino E Schiff Siamo arrivati Agostinelli E Calderotti Il signor De La Vente Si è partito Con Cavani Uguain Asimene Già è incominciato A De La Vente Fatemi capisco Amarca E Belotti Ma A Coppa De La Vente La Coppa De La Vente Francesco E allora Siamo seri Anche voi Giornalisti In generale Non voi Che siete lì A Mugnano In generale Incominciamo A dire A chiudere La Venti Io voglio Leggere Il momento Resto Quattro Diciamo In Tu E' una roba Ma Abbiamo Vinto Francesco E lascio Spazza Agli altri Risponditi Grazie Rosario I I I Rosario Il nostro Scrivano Il figlio De La Vente Non vuole vincere A dire Ciao Ciao Rosario Grazie Rosario Grazie Vabbè Allora Sono tante Sì Sì Ecco Vedi Guarda Perché Se no Si sente Quello Che dici Allora Caro Mennillo Allora Quando Napoli Cresce Il primo Il primo punto Affrontato Napoli Cresce Difficile Perché 18 anni Dove averlo fatto Lo sviluppo C'ha ragione Ormai Hai ragione Però Intanto La crescita È bloccata Siamo questo tempo Poi L'altro punto È il futuro Del Napoli Perché Dice Che le altre Torneranno Più forti E Che potrebbe Potrebbero Superare Il Napoli E quindi Anche l'anno prossimo Li prevede Una lotta Difficile Per la Champions Addirittura Anche per l'Europa League Dice Rosario No Io non sono d'accordo Pure io non sono d'accordo Milan Inter E Juventus Non cresceranno Più di tanto La Roma Neanche La Lazio Neanche Ragazzi La situazione Sarà questa Si potrà Mescolare Perché Se il Milan Vince Lo Scudetto È chiaro Che Ecco A Milano Lì singolosiranno Anche a livello Di sponsor A livello Di situazioni Sicuramente Io ho previto Per l'anno prossimo Anche la Juve Rientrare La Juve Rientrerà Con le conferme Di Milan E Inter Bisogna vedere Chiaramente Come andrà Anche il Napoli Ma anche il Napoli Secondo me Lotterà Per lo Scudetto Anche l'anno prossimo Credo che queste quattro Siano comunque Troppo avanti Al momento Rispetto Alle altre Per poter Prevedere Dei cambiamenti Di sorta Poi certo Durante la stagione Può succedere di tutto Un crollo di una squadra Una situazione Che va male E la previsione Chiaramente Non si avvera Però diciamo che Queste quattro Sono quelle più indiziate Anche per l'anno prossimo A fare una corsa Non voglio dire Ah sì Però quasi Per lo Scudetto E la Champions Secondo me Sì potrebbe essere Poi ha parlato Ancora Dei soldi Della Champions Anche lui Come verranno investiti In che modo Verranno spese L'abbiamo detto Posso dire No posso dire una cosa Allora I soldi della Champions È chiaro che non vanno Né a Raffaele Né a Magari Né a Renato Che sta qua Né a Rosario Né a me Assolutamente Non vanno a noi Vanno alla società Calcio Napoli Che è la squadra Che tu devi Tra virgolette Dobbiamo sostenere Sta al Napoli Usufruirne Nel modo migliore Esatto E spenderle Nel modo migliore Questo dobbiamo fare Noi dovremo essere lì Vigili Questo dovrebbero farlo Anche i giornalisti Tutti i giornalisti Dovrebbero essere lì Vigili A dire Ma i soldi Della Champions I 50 55 milioni Che arriveranno Dalla Champions E altro Cosa verrà Fatto Verrà comprato Un giocatore Verranno pagati Gli stipendi Verrà acquistato Un terzino sinistro Verrà acquistato Un terzino destro Verrà acquistato Un altro attaccante Questa è la domanda Che noi dobbiamo Porre a De Laurentiis Senza aver nessuna remora È chiaro Che lui Ti può rispondere In mille modi Però noi dobbiamo Essere lì Pronti a vigilare I soldi Della Champions Noi non dobbiamo Vederli come Una cosa astratta Che va nelle tasche Del signor De Laurentiis Perché non è poi Neanche così Noi dobbiamo Vederli come Dei soldi Veri Che vanno Nelle tasche Del Napoli Poi dopo Bisogna però Spenderli Capisci Poi Allora Che aveva detto più Basta Basta Si aveva chiuso Dicendo che Se scocciare Di Petra Empre le stesse cose Mi dispiace Ma purtroppo Sono queste le problematiche Che affrontiamo Gianluca Esposito Dice Via De Laurentiis Lottare per lo Scudetto Senza mai vincerelo Da quando siamo tornati In Serie A Che delusione Poi facciamo Queste brutte figure Senza mai arrivare Oltre gli ottavi Di Champions O usciamo Quasi sempre A Gironi E questo è un altro Ragazzi Però a livello Della Champions È importante Devi avere la fortuna Devi avere una rosa Pronta Ci sono i sogni Villareal Però poi Vediamo come vanno Allora Amsicomertens Come team manager E lo scouting Di ex calciatori Del Napoli Per poterli prendere Prima degli altri Bravo Roberto Allora Luigi Non capisco Della Laurentiis Dice Che L'obiettivo Era la Champions E non lo Scudetto Ma anche vincendo lo Scudetto Partecipa alla Champions Vabbè Ragazzi Per vincere lo Scudetto Devi essere Un po' più su Devi essere 7-8 punti Un po' più su E il Napoli 7-8 punti Sappiamo che purtroppo Li ha persi In giro per la strada Un po' da per tutto Usiamo questo termine Allora C'ho la pubblicità Delle 17 Allora ci fermiamo giusto Un attimo Poi proviamo a fare Ancora qualche telefonata Dai Allora Eccoci tornati Eccoci tornati Finalmente Abbiamo riacquistato Anche le cuffie Sì sì Abbiamo riacquistate Al mercato Riusciamo a fare Le telefonate Allora Davide Sabella Caro direttore Ecco Caro direttore Ma la dichiarazione di Aurelio Non la offende I tifosi namoletani Vogliono vincere Perché sono frustati Non si è sentito offeso Davide sì Però lì sono le solite Frassi di De Laurenti Secondo me In quei momenti vorrebbe dire Delle cose un po' Astruse Tra cui il fatto del casatiello Questo fatto che i mariti Picchiano le mogli Ma io mi auguro di no Insomma Voglio dire Non credo che I tifosi del Napoli Picchino le mogli Anche perché Sono tante mogli Che adesso vanno allo stadio E seguono con grande attenzione Il Napoli E quindi L'abbiamo visto nei club L'abbiamo visto nei club Esatto Quindi De Laurenti Vorrebbe dire Diverse cose Vorrebbe fare Degli esempi Coloriti Per spiegare Il suo ragionamento In maniera un po' fallace Permettere Esatto No no Escono poi delle cose Che non sono Si per lì Lo dovete prendere Per com'è Lui crede anche Un po' Di sorridere Di far sorridere Di fare Delle situazioni Comunque Vediamo Sono situazioni Che ripeto Come dice Davide Sabella Vanno un po' A offendere I napoletani Insomma Però vediamo Allora C'è un'altra telefonata Marco Pronto Credo sia caduta E caduta Ok Allora Chiamate 506 7764 Pronto Ce l'abbiamo Pronto Pronto Sì Chi è Sono Enzo Da Napoli Allora Chiedo a Marco Di alzarcelo un po' Enzo Perché lo sentiamo Lontanissimo Ciao Raffaele Ciao Enzo Vi sento Mi sento un po' Lontano Sì Anche noi Perfetto Diretto volevo un po' scindere le due cose Dalla Champions E dallo Scudetto Però volevo un attimo prima Fare una considerazione con voi Fare una considerazione con voi Secondo voi E poi mi rispondete Noi troviamo qualcuno che possa effettivamente Sborsare Sborsare 600 milioni di euro Cosa che chiede dell'Aurentis Più ricostruire tutta la società Io credo che oggi attualmente Non ci sono personaggi O qualcuno che possa investire Ma per la cifra Non per la città di Napoli e tutto Secondo me Voglio tornare un attimo Alla situazione Champions Siamo in Champions Perché oramai la società Napoli È costruita anche per arrivare in Europa L'anno scorso Se non ci fosse stata La scellerata partita con il Verona Noi avevamo disputato la Champions Quest'anno invece del Verona Io sostituisco l'Empoli È la stessa cosa Perché con i sei punti dell'Empoli Noi potevamo arrivare allo Scudetto Abbiamo trovato un muro purtroppo Dico Cagliari Li abbiamo trovati Inferociti contro di noi Abbiamo trovato la Salernitana Inferocita contro di noi Abbiamo trovato la Fiorentina Inferociti contro di noi Dobbiamo crescere Io faccio una mia considerazione Se non ci fosse stata La Coppa d'Africa Il Napoli a febbraio Avrebbe dato una spinta Per lo Scudetto E a parte gli infortuni Ma quello che più mi preoccupa È la prossima campagna acquisti Viste che in ogni ruolo Noi abbiamo delle defezioni Il Napoli non sa ancora tutt'oggi Chi scegliere tra Ospina e Mere Non abbiamo un terzino sinistro Zanoli purtroppo Abbiamo visto Che non può sostituire Più di una partita Di Lorenzo Non sappiamo Elmas Unas Petagna Politano Lozano Che cosa faranno Da grandi Lorenzo Insigne Se ne è andato Goulam Se ne è andato Malcui Se ne andrà Io credo Che il problema È Che si devono sedere De Laurenti Se Spalletti E programmare Che cosa vogliono fare Considerando Che quest'anno Spalletti Ha avuto Un solo giocatore E non è stato Neanche utilizzato Se non per pochi minuti In Napoli Fiorentina E parlo di Tuanzepè Che io Se lo vedo in campo Non lo riconosco Non so neanche come fa Neanche io Onestamente Quindi c'è da ricostruire Sperando Che questi soldi Della qualificazione E più I soldi Del campionato Aiutino I Napoli A rimanere Nella posizione In cui siamo In altre città Noi avremmo Gioito Per arrivare In Champions In altri campionati Avremmo gioito Napoli È una piazza Particolare Noi siamo In Champions Ma non siamo Soddisfatti Noi abbiamo Perso lo Scudetto E non ce ne rendiamo conto Perché Regalare Nove punti A Spezia E Empoli Noi lo Scudetto Non lo possiamo Mai e mai Mai vincere Buon pomeriggio Sempre forza Napoli Sempre forza Napoli Allora Intanto noi abbiamo sentito Enzo Meno male che Raffaele ha segnato Ho segnato Però ti dico La dettaglia Lo sentivo bassissimo Quindi Alcune cose Me le sono perse Si ha iniziato Allora si ha iniziato Alla storia Dicendo che Chi se lo compra È Napoli Le cifre che chiedete La Lentis No Questa è una bella È una bella domanda Quella che fai Però Ragazzi Chi se lo comprava L'Inter Chi se lo comprava Il Milan Chi se la comprava La Roma Chi se la comprava Questo Chi se la comprava Chi se lo comprava Il Manchester City Permettete No Però se le sono comprati Quindi diciamo Che in questo momento Non c'è Forse Un investitore Pronto a comprare O se c'è Non sappiamo Se ha fatto Veramente La cosiddetta Offerta Offertuna Al Presidente E quindi vediamo Io credo che c'è Qualcuno Permettimi di dire una cosa Però Francesco In questa situazione Mi ha detto in cui Uno di questi Grandi Fondi di investimento Grandi azionisti Decidesse di comprare Il Napoli Non è detto Che in automatico Diventiamo come Il Manchester City Intanto penso Si aveva persa La telefonata Con Marco Il Napoli Cioè Chi viene a Napoli Potrebbe anche Dover investire Tutte quelle cose Di cui abbiamo Elencato prima Che Napoli Non ha strutture Giovanili Lo stadio Che sono soldi Che se ne vanno Sono tempi lunghi Per poter costruire bene E quindi non è detto Che nel momento in cui A Napoli Arriva Bezos Di Amazon O il Catariota Con i petrol dollari In un anno Diventiamo il PSG In due anni In Manchester City Comunque ci saranno Dei progetti di investimento Dei progetti di crescita Magari della società Che comunque Sono cose che noi Vorremmo vedere Anche nel Napoli De Laurentiis Quindi non è automatico Che arrivano I grandi investimenti Stranieri E il Napoli In automatico Diventa una superpotenza A livello mondiale Potrebbe succedere Magari come la Fiorentina Che passo passo Commisto sta cercando Di far progredire La società Dalle strutture A giovanili Fino alla prima squadra In una società Che sia competitiva Ma è anche vero Che il Commisto Ha lottato due anni Per non retrocedere Questo non può Non voglio Vedere la nera Per sforza Voglio solo Segnalare Che c'è anche Un risvolto Una medaglia Che non è detto Che sia positivo Spero Mi auguro Che se dovesse davvero De Laurentiis vendere A uno di questi Grandi investitori Il Napoli Possa diventare subito Il PSG di turno Il Manchester City di turno Chiaro Che c'è anche La possibilità Che vada in quest'altro modo Eh sì E così È proprio Quello che dici tu C'era qualcosa La cosa che aveva aggiunto Il Napoli Diceva Enzo Che è comunque costituito Per la Champions Quindi l'obiettivo Va festeggiato sì Però è anche un obiettivo Quasi minimo Parlava poi Del dubbi Del futuro Perché i giocatori Quest'anno Non tutti hanno dato Quello che dovevano Tutti hanno dato Le risposte Che ci aspettavamo Il mercato Potrà dire tanto E potrà dire niente Quindi rimangono Dei dubbi E spera Chiudendo Diciamo Il suo ragionamento Che i soldi Che abbiamo guadagnato Tra terzo Barra quarto posto E la Champions Servano a ricostruire Napoli più forte Va bene Va bene Allora Ragazzi Vediamo se riusciamo A fare ancora Qualche telefonatina In questo pomeriggio Dove siamo Da MD Gruppo Topo A Mugnano Come al solito Ci saremo per tutti Martedì Ancora fino a fine Campionato Vi ricordo che MD è uno dei nostri Partner E lo ringraziamo Vi ricordo che Giovedì sede Ci sarà l'appuntamento Con Raffaele Aurema Come al solito Sabato faremo Pre e post gara Quindi non ci fermiamo Mai Voglio dirlo Però insomma La situazione È proprio questa Cioè noi Continueremo A parlare Di questo E lo faremo Con grande Attenzione È chiaro È chiaro Caro Raffaele Che poi Come dire Proveremo Anche a parlare Di calcio mercato A un certo punto Ci toccherà Caro Francesco Perché il campionato Finisce Qualcosa dovremmo dire Nelle ultime puntate No però È chiaro Che Noi potremmo parlare Di calcio mercato Dal Primo agosto Fino al Trenta maggio Considerando che Giugno e luglio Ci sta Ci fermiamo noi E poi ci sono i ritiri Però sarebbero notizie Vuote Perché Non c'è niente di certo Da gennaio ad oggi Metà delle notizie Che uscivano Sul Napoli Tra i nostri colleghi Delle televisioni Eccetera eccetera Erano notizie di mercato Tra l'interesse Per Quelli della rosa Che sono Che potrebbero Non potrebbero andare via In questo In quel campionato A queste A quelle cifre Diciamo che Noi tentiamo Almeno questa nostra politica Di parlare di mercato Quando c'è qualcosa di concreto Quando c'è più di una voce Ma non ci sono neanche Molte notizie Ecco Leggevo In questo momento Vabbè Perché sono le notizie Che stanno dando Di Scamacca Di abbiamo iniziato a parlare Mi sembra a marzo Di Belotti Ne abbiamo parlato a gennaio Di Traorei Che è l'ultimo nome Ci sono le ultime Quando l'affare viene dato per fatto Qua rascena Da un mese Eppure abbiamo dovuto aspettare Comunque De Laurentiis Ce lo dichiarasse Alla televisione La settimana scorsa Per poi dare la conferma Perché Tra le tante situazioni Il Napoli fa molte cose Sotto traccia Conosciamo bene Tutte le questioni Per i diritti d'immagine Dei contratti Eccetera Eccetera Quindi Parlare di mercato Per noi Non è facile E cerchiamo di farlo Nei limiti del possibile Per non dare false notizie Ai tifosi Che poi chiaramente Scatenerebbero Delle lunghe discussioni Abbiamo nominato Scamacca E già ci sono arrivati Di 50 messaggi Noi meglio di Bala No ma Ma fa Cuscamacca Il futuro della nazionale Cerchiamo comunque Di dare quelle che sono notizie Più certe Più Quelle confermate E poi andare a vedere Quello che comunque Si snoderà nei prossimi mesi E comunque rimaniamo Il 3 maggio Il mercato Opre a luglio Quindi Speriamo che chiuderà Un po' prima il mercato Ma infatti quest'anno Bisognerà capire Ad oggi La L'attività di chiusura È tra il 31 Agosto E il 2 settembre Cioè 4 giornate Di campionato Che già si giocheranno Esatto Per il momento Non è cambiato niente Bisognerà vedere Se i club Chiederanno alla Lega O se la Lega Chiederà alla FIFA Insomma Di cambiare qualcosa Fatto sta che Ad oggi È confermata La chiusura solida Tra il 31 Agosto E i primi di settembre L'1 o il 2 Insomma Per il momento Non c'è nessuno Che parla di una chiusura Anticipata Né nel nostro Campionato Né negli altri Quindi Ad oggi Che è 3 maggio Ripeto Non ci sono notizie Che ci fanno pensare A un cambiamento Di date Per il mercato Servirebbe Secondo me Io anzi Sono sempre convinto Che il mercato Ebba chiudere Prima dell'inizio Della prima giornata Assolutamente Di tutti i campionati Perché Bisognerebbe Però chiudere Prima 10 agosto Ma bisognerebbe chiudere Quando inizia Il primo campionato Quando inizia l'ultimo Cioè Se il primo Europeo Inizia Il 9 agosto E inizia Il 12 Ma infatti L'8 agosto Deve chiudere il mercato Chiudiamo il 1 agosto Vabbè Comunque Dai Allora Caro Raffaele Non deve essere La paura dell'incertezza Su chi verrà Il motivo Per accontentarsi Di quello che c'è Ormai sono 18 anni Di chiacchiere Ora bisogna cambiare E carta conosciuta Non farà mai niente Non ci porterà mai A vincere niente Sì sì no La mia incertezza È per rispetto alle notizie Di mercato Che noi potremmo darvi Il giorno per giorno Perché ripeto Facendo un giro Tra i nostri colleghi Si parla tantissimo Di mercato del Napoli Però sono notizie Che non hanno Un fondamento Nella maggior parte Dei casi Quindi non ve le portiamo All'attenzione Proprio per evitare Fraintendimenti Non è che io ho paura Del mercato futuro È chiaro che può succedere Tutto però In questo momento Il problema è un altro Allora Io intanto vi dico Di scriverci Sulla nostra diretta Perché non abbiamo In questo momento La possibilità Di fare altre telefonate Se ho capito bene Se c'è invece La possibilità Di farle Avvisatemi Vogliamo leggere Il report del Napoli Leggiamo il report Leggiamo il report Poi volevo Volevo dire alcune cose Vai vai Ok allora Seduta mattutina Per il Napoli Napoli con Ami Training Center Gli azzurri preparano Il match con il Torino In programma sabato Alle ore 15 Per la 36esima giornata Di Serie A La squadra ha iniziato La sessione con Torella E partita a campo ridotto Successivamente Il gruppo Si è spostato Il campo 2 Per effettuare Lavoro di forza A chiusura di sessione Partita a tema Gulam e Rachman Hanno svolto Lavoro di prevenzione In campo Vabbè Allora abbiamo detto Di Bellucci Che ha detto no Al Cagliari Perciò è stato preso Agostini Abbiamo detto Che è stato squalificato Lukic del Torino Che non ci sarà Quindi Con Napoli Allora L'ultima telefonata La facciamo E poi andiamo in chiusura Dai Pronto Pronto Si chi è Sono Bianca D'Agigliano Ciao Bianca Buonasera a te Vai Se sono soddisfatta Della qualificazione Champions No mi sento male Quindi penso che Parla prima tu E poi noi ti rispondiamo Sì penso che sia meglio Per questa qualificazione Sinceramente Io non sono soddisfatta Non sono soddisfatta Ma non perché Io pensavo Che il Napoli potesse andare Più avanti Anzi Io non credo neanche Nella qualificazione Champions Solo perché Non vedo nessun passo avanti Cioè Io credo Se si facesse Un sondaggio Se i tifosi Preferirebbero Insomma Un'altra qualificazione O magari pure Una sede Dove mostrare I trofei Dove Poter visitare Cioè Creare Un centro sportivo Visto che noi Non possiamo Vincere Un trofeo europeo Anche Se fosse la Coppa UEFA Non possiamo fare Più di quello Che Insomma Abbiamo avuto In questi anni Io Penso che Dobbiamo Comunque Dare qualcosa Ai tifosi Forse hanno una sede Cioè Questo è il discorso Questo Presidente È come se Avesse Comunque Un cavallo Frenato Perché Considerando Le qualificazioni Europee Che ha avuto Considerando I diritti Che ha Televisivi Che Ha In quanto Bascino di utenza Di Napoli È come se Tenesse una Ferrari Ma non Hai soldi Per portarla in giro Per mostrarla Per Insomma Per la Benzina In attività Questa Ferrari Quindi Per me Deve lasciare Deve Farsi da parte Perché Se lui Ha questa Ferrari Non la può portare In giro Cioè Che cazzo Se la viene a fare Farlo con I suoi stessi Termini Lui Non ci può Tenere Frenati L'appoggio Di qualcun altro Economicamente Anche con Una percentuale Più bassa Di partecipazione Oppure Vende Penso che Abbiamo Prendendo Abbastanza No In questi 18 anni Si è comprata Un'altra squadra Non sta facendo Più film Credo Che abbia Fatto Abbastanza Perché Io penso A livello D'immagine Una città Metropolitana Come Napoli Conosciuta In tutto il mondo E questo Penso che È una cosa Incontestabile Che siamo Conosciuti Sia con la Canzone Sia perché Per tutto Non può Non tenere Una rappresentanza A livello Dirigenziale A livello Di sede A livello Di tutto Ma veramente Scherziamo Cioè Io non mi sento Rappresentata In modo degno Cioè L'unica squadra In serie Che non è Una sede Che non è Un cazzo Con il suo Sempre solito Termine Lui C'ha una Ferrari E non c'è la Benzina Per stalla Circolare E quello È il discorso Se il presente E ha fatto Il massimo Quello di Comprarsi La Ferrari La Ferrari Se non la può Portare in giro La deve vendere Punta e basta O deve chiedere Aiuto Questa è la sostanza La sostanza È questa E noi Io non dico Che dobbiamo Vincere la Champions O dobbiamo Vincere lo Scudetto Però io vedo Che Più che migliorare A volte peggioriamo E questo è il discorso Non si fa un passo avanti Non lo puoi fare in un senso O sia a livello di Di avere delle qualificazioni Di vincere qualcosa Lo fai in un altro senso Ma non significa Che tu sei a livello Di quando stavamo in Serie C Ma scherziamo Ma poi tutti questi giornalisti Che non dicono di queste cose Noi siamo a livello di Serie C Anzi Forse in Serie C Stavamo meglio Che avevamo uno Avevamo Marino Che era un dirigente Un dirigente comunque Che era stato Su alcuni Scafato Cioè era stato con Napoli I tempi dello Scudetto Avevo un minimo di esperienza Io per me E' caduto tutto Quando se ne andava Benitez Benitez doveva essere In Messia Cioè Un dirigente Che doveva costruire Visto che Bianca Bianca ti devo fermare Perché siamo in chiusura Alle primaveri Insomma Del Bianca Perché Era stata A Liverpool Era stata A per tutto Certo Bianca Tutto chiaro Ti devo fermare Perché veramente Siamo in chiusura E ti rispondiamo al volo Perché Sì Perché se no Non ci riusciamo a parlare Con la po' E rispondere a Bianca Insomma Bianca ha detto migliaia di cose E sulla questione del Presidente Lo ribadiamo ragazzi Però Ci deve essere un compratore Ci deve essere Un Qualcuno Che offra qualcosa De Laurentiis Perché De Laurentiis In questo momento Lo ha detto Tra Napoli e Bari Rischia di vendere il Bari Perché insomma Il Napoli è Una soluzione Anche prestigiosa Per lui Va in Champions Ha avuto Quello che voleva Riesce ad avere Comunque degli introiti Importanti Dalla Dalla società sportiva Calcio Napoli Quindi Tra Napoli e Bari Lui ha detto Di scegliere il Napoli Però È chiaro Se non arriva il compratore Lui continuerà con il Napoli O no? Eh certo Sì Non so Poi ci ha insegnato altre cose Sì lei ha detto di essere contenta Della qualificazione Champions Che non si aspettava Che il Vabbè Presidente deve lasciare Perché non ha dato niente ai tifosi Devrebbe anche basilarmente Investire nelle strutture Non si sente Non si sente rappresentata Dalla società Tutta la questione Della macchina Che dice lei Giustamente Il Napoli Il Napoli è come una Ferrari Che però non viene sfruttata al massimo Ma lo sappiamo bene Lo sappiamo bene Sì ci trova Perfettamente d'accordo C'è poco da aggiungere Allora ragazzi Noi dobbiamo salutare Grazie a Marco in regia Renato qui A Mugnano Da MD Topo Grazie a Raffaele Grazie a te Francesco Che ritroviamo nei prossimi giorni Noi ci vediamo domani Altro appuntamento Con Francesco Rabona E i suoi ospiti Quindi vediamo domani Faremo un po' il punto sugli ospiti Continueremo su questo filone Ma ripeto Giovedì ci sarò io Venerdì ci sarò io Quindi non vi preoccupate Parleremo ancora di questa vicenda Per tutta Ne abbiamo il tempo E sabato faremo prepartita E postpartita Grazie a tutti voi Grazie a MD Topo Al martedì con loro Domani con tutti voi Sempre intorno alle 15 15 e 15 Ciao Forza Napoli